E' possibile guadagnare con solo un migliaio di iscritti o follower sui social? E' possibile iniziare a fare dei soldi interessanti quando sei praticamente all'inizio della tua carriera? Quando ti sembra che gli altri siano degli influencer irraggiungibili con centinaia di migliaia o milioni di follower? E' possibile, te lo spiego in questo video e ti assicuro che le persone, gli studenti dell'Enstain Academy link in descrizione se vuoi avere dei dettagli, hanno usato i nostri corsi, i nostri consigli, le nostre consulenze per arrivare a guadagnare migliaia di euro da attività commerciali già con poche centinaia o poche migliaia di iscritti quindi è vero, funziona, abbiamo tutte le testimonianze, se vuoi approfondire qui sotto c'è un link dal quale puoi acquistare i nostri corsi a partire da 47 euro e se non ti piacciono te li rimborso io abbiamo corsi per Instagram, YouTube, TikTok, ti consiglio di guardarli anche perché a fine anno li chiudiamo non saranno più comprabili veramente perché cambio mestiere io personalmente veniamo al contenuto Ciao ciao, sono Roberto Buonanno, ciao a tutti sono titolare di Insane Management e Tre Labs SRL, aziende che fatturano decine di milioni di euro Insane Management in particolare è uno dei management migliori d'Italia, per me il numero uno ovviamente ma ogni scarafone è bella mamma sua, cosa fa un management, praticamente lavora con tanti talenti nel mondo degli influencer e fa in modo di procurare le loro opportunità commerciali, quindi del denaro ma anche opportunità di posizionamento con attività belle, fighe da fare, belle da vedere anche per i propri fan e follower e quindi ho abbastanza esperienza anche perché ho fondato Insane Academy l'anno scorso la chiudo a fine di quest'anno, quindi attenti avrò la possibilità quindi di mostrarvi alcuni casi di successo ma non in questo video per in questo video fidatevi per adesso vi dico come ragazzi con poche centinaia, poche migliaia di iscritti hanno realizzato un sacco di soldi partendo praticamente da zero nonostante nel loro stesso settore quindi ci fossero influencer con centinaia di migliaia o milioni di iscritti come si fa? Innanzitutto parlando a chi ha un canale YouTube ovviamente non si fa con la monetizzazione del canale perché sei pochissimi iscritti, farai pochissime visualizzazioni, YouTube più o meno paga se va bene a baciarti i gomiti un euro ogni mille visualizzazioni e a volte meno capisci che c'è poco da guadagnare, 300.000 visualizzazioni in un mese, 100 euro dove stiamo andando? stiamo parlando di importi molto più cospicui in denaro o anche in oggetti, servizi, premi, viaggi comunque cose che tu avresti pagate quindi è come aver guadagnato del denaro lo stesso il famoso cambio emerso baratto è una delle armi migliori degli influencer soprattutto di quelli emergenti innanzitutto per poter guadagnare del denaro devi saper contattare in maniera corretta le aziende e saper gestire in modo molto 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 competente le possibili obiezioni prima obiezione tu hai mille follower su TikTok e questi qua ti dicono scusa ma perché non dovrei lavorare con quelli che ne hanno un milione? ecco lo argomenti in una bella email, fai una bella email di contatto, lo spedisci in queste email alleghi una presentazione fatta alla grande di te, della tua persona, dei tuoi profili e soprattutto spieghi in maniera corretta perché i tuoi mille iscritti di YouTube tutti i recenti, tutti gli ultimi tre mesi sono super attivi, ti fanno vendere un sacco di prodotti e in queste tre occasioni hanno dimostrato di essere veramente ricettivi rispetto a ogni mia sollecitazione ovvero io pubblicavo e loro compravano, guarda ti faccio vedere i link di Amazon e il fatto che tramite questo sistema di affiliazione posso dimostrarti che ho fatto 15 vendite esempio, ok? potresti non avere ancora niente da far vedere quindi non hai mai fatto veramente nessuna attività è la tua prima attività e allora semplicemente di metti via la prova quindi contatti l'azienda per esempio che non lo so produce la tua fotocamera preferita mandami la fotocamera di ultima generazione io faccio la recensione poi te la restituisco come nuova e vedrai come va il mio lavoro, ok? quindi hai guadagnato soldi? No! ma quanto ti sarebbe costato non leggere la fotocamera o comunque procurartela per poter realizzare un video? tu tratti di fotografia e hai un contenuto interessante per il tuo pubblico non hai pagato niente quindi è come se avessi guadagnato sì, mi sto arrampicando sui vetri però devo dirla, all'inizio è difficile per tutti ragazzi, è difficile due, usa LinkedIn, non a caso, ma perché non ce l'ho mai quando mi serve? ah no, ce l'ho, ecco, ecco, non a caso ho scritto un libro sul tema, perché? perché LinkedIn è il social network professionale numero uno al mondo qua ci sono miliardi di persone, sì miliardi, un poco più di un miliardo che entrano solamente per cercare contatti di business, offrire lavoro, trovare lavoro o cercare nuovi clienti e fornitori per le proprie aziende questo libro che ha oltre 300 pagine, 317, no, un po' di più 317 è un numero mistico, esoterico, che porta fortuna alla mia famiglia questo libro in realtà non ti spiega le schermatine per iscriverti a LinkedIn e basta ma ha centinaia di pagine dedicate alla cura del tuo personal branding quindi potrebbe essere un buon acquisto, costa una ventina d'euro te lo puoi permettere, il link è qua sotto e qua ti spiego esattamente dall'inizio alla fine come entrare in contatto con le aziende come convincere a investire su di te e come coltivare tutta la tua immagine in modo che quando contatti le altre realtà queste rispondano in maniera positiva è tutto qua profilo social ben curato è essenziale avere un profilo social ben curato se vuoi che le tue richieste verso le aziende le tue richieste di sponsorizzazione siano accettate perché se queste aziende che tu contatti e alle quali chiedi del denaro, degli oggetti o un baratto, quindi mi dai, che ne so, le tue ultime 15 fotocamere professionali mi sembra un po' esagerato mi mandi i tuoi ultimi 10 libri, forse è meglio perché stai contattando un editore e io ti faccio una bella recensione sul mio canale YouTube ecco, presentati bene, chiaramente il canale deve essere ben strutturato le grafiche giuste, linguaggio corretto, competenza e sui profili, quale che sia la piattaforma che tu prediligi devono essere dei contenuti io ho visto dei messaggi di ragazzini che mandavano al mio amico Alessio di AK le richieste di computer gaming completi da migliaia di euro dicendo, guarda, sto aprendo un canale YouTube dedicato alla tecnologia mi regali un computer e il mio primo video sarà sul tuo computer non ce la faccio neanche a pronunciarla sta cosa e ci credevano e quindi ecco, non far così, mostro un profilo ben strutturato i contenuti nel loro posto, tutto fatto bene così che quando questa persona vada a visitarlo dica caspita, sì, questa è una persona che anche se non ha i numeri da capogiro però, però, è una persona che vale la pena conoscere ok? attenzione alla scelta della nicchia se hai deciso di avviare una carriera di successo come influencer professionista non puoi scegliere un argomento a caso per i tuoi canali, per i tuoi profili devi scegliere un argomento che abbia la possibilità di creare un'economia di creare dei soldi, di farti fatturare del denaro vero quindi se scegli di trattare, per esempio, sul tuo canale YouTube i tappi da bottiglia più preziosi del mondo capirai che non farai una bella fine ok? andrai in miseria cioè, o riesci a prenderla molto sulla commedia quindi fai ridere le persone oppure, non lo so l'unico luogo dove mi ricordo che i tappi da bottiglia avessero un gran valore è Fallout, dove i tappi della Nuka-Cola erano la valuta di quel videogioco però, non siamo in un videogioco distopico sul post nucleare ok? quindi, mi raccomando scegli con molta attenzione ovviamente qua apparirà un video dove ti spiego come scegliere la giusta nicchia per i tuoi contenuti avanti affiliazione è un accordo che si fa tra te e un'azienda quasi sempre sono aziende che hanno o un loro e-commerce quindi un loro negozio online oppure sono esclusivamente degli e-commerce e ti danno degli speciali link spesso poi con anche una piattaforma quindi un sito internet dove puoi andare ti registri e verifichi tutta la reportistica dei link chiamati di affiliazione la più famosa è Amazon anche quella che paga meglio che ha i report migliori no, non è che quella che paga meglio attenzione, è quella che pagano di più altre piattaforme soprattutto quelle cinesi per quanto riguarda la tecnologia Amazon è quella che è sicuramente più garantita ed è quella che ti offre la maggiore affidabilità è anche quella da cui le persone compro in maniera più spontanea più facile però ovviamente ha le percentuali un po' più basse quindi cosa fa un'affiliazione? ti permette di mettere nei tuoi video, nei tuoi contenuti un link ai prodotti o ai servizi che hai trattato questo link ha un tuo codice speciale univoco che identifica che le persone sono arrivate dai tuoi contenuti e tutti gli acquisti generati tramite il fatto che tu hai portato le persone lì quindi tutti gli acquisti che fanno capo al tuo link ti generano del denaro piccole percentuali, 1, 2, 3% oppure altri danno molto di più ci sono i servizi finanziari che ti danno anche centinaia di euro per ogni persona che si registra sulla piattaforma di trading per esempio e fa un suo primo investimento attenzione però quando ti affili qualcuno perché? Perché tu poi diventerai in qualche modo garante di questa realtà e se i tuoi follower, i tuoi fan si affidano a te e alla tua autorevolezza e comprano una porcata o buttano il denaro, sono truffati e sono cavoli amari ne devi rispondere tu personalmente quindi essere veramente una persona con i cabassisi come dice Ciccio Gamer così metterti pubblicamente all'agonia e dire ragazzi ho scusato, vi ho consigliato un sistema di trading che era una truffa vi ho consigliato un cripto un cripto investimento che era uno scam era una fregatura sapete cosa fanno alcuni influenze di cripto? per sbaglio non in mala fede anche in buona fede incappano e pubblicizzano un servizio scammone cioè che fa sparire i soldi dei propri fan e poi cosa fanno? cancellano il video dove hanno fatto questa boiata non si fa devi prenderti le responsabilità devi fare un video se lo cancelli devi fare una posta dicendo mi scuso con tutti quelli che ho mandato dal servizio tal dettaglio perché si è dimostrato un pacco e poi il merchandising certo potrebbe sembrare un po' presto potrebbe sembrare un po' presto dire la vita questo testo me l'ha scritto il mio team quindi ringrazio Gabriele, Toni, CR e Manabi però potrebbe essere un po' presto mille iscritti avere il merchandising caspita mi vengono in mente degli esempi di successo un po' meno però potresti avere già non merchandising inteso come quello che celebra il tuo branding il tuo logo la tua persona o quello che succede sui tuoi profili potresti avere dei prodotti che sono di per loro interessanti prodotti per il pubblico quindi potresti avere avviato una carriera su YouTube o su altri social per promuovere i tuoi prodotti di tu già ecco sì in questo caso il merchandising è corretto e quindi che fare? guadagno un sacco di soldi ed è anche con poche persone perché soprattutto se hai prodotti che ti danno un'alta marginalità se sono tuoi si spera che sia così e quindi cosa fare in questo caso? dall'inizio della tua attività su YouTube o su qualsiasi sia il social su cui stai investendo io dico sempre YouTube perché ragazzi oggi per fare l'influencer in maniera corretta e professionale a mio parere devi avere anche YouTube o il tuo principale o comunque lo devi curare ok? mi va bene se sei il fenomeno di TikTok devi anche fare il canale YouTube fondamentale perché? perché i contenuti YouTube rimangono lì nel tempo e continuano a generare valore e anche soldi nel tempo anche dopo 1, 2, 3, 4 anni che le hai realizzate vedete? è un vantaggio imperdibile allora quindi che fare? in questo caso fin dall'inizio specifica che sei produttore di servizi e prodotti produttore di cose di oggetti e che effettivamente tu vivi vendendoli non cercare di ingabolare le persone facendo finta di essere uno dei tuoi clienti che ha scoperto il tuo magico integratore che quindi adesso te lo propone no se è tu il prodotto da subito devi far capire che sei tu alle spalle di tutto quello che riguarda quel prodotto onestà trasparenza vince sempre su tutto e poi se vuoi guadagnare tanto dei social diventa tu la faccia della tua azienda hai una piccola impresa sei un imprenditore o un'imprenditrice hai una realtà di successo come fare un sacco di soldi con i social? diventa la faccia della tua realtà qui guarda non ti sto neanche a parlare molto ti dico solo che Malabi ha una dirige una nostra business unit che fa solamente questo quindi vi mando direttamente al canale di Malabi guardate questo video specifico che vi metto non so se riesco a metterlo se Tony riesce a metterlo qui o in descrizione e lì vi spiega esattamente cosa fa per far diventare l'imprenditore il testimonia della propria azienda e così guadagnare un fracco di soldi infine un suggerimento non è un trucco quando inizia ad avere relazioni con le aziende è fondamentale che rispetti al 100% queste aziende come ho detto durante il video a un certo punto partirai chiedendo dei prodotti in prova temporanea che poi restituisci dopo un po' chiederai dei prodotti in omaggio che sono comunque un valore ora quando arrivi dei prodotti in omaggio tu ricevi un controvalore monetario è vero però non devi venderli o perlomeno devi aspettare un po' per farlo io mi ricordo in questo senso ancora un'email del mio ex concorrente non riesco anche a pronunciare il nome mi viene a vomitare in un video precedente ho parlato di Dissing ma questa persona è così così repellente che non ce la faccio citare che mi aveva accusato di aver venduto una scheda video ricevuta in prova da non so quale azienda nel corso della nostra attività di titolare redattore editori di Tom Sardor a parte che era una falsità ed era una diffamazione però ho trascurato e ho lasciato perdere ma in realtà questa persona aveva ragione è una cosa che non si fa quando ricevi i prodotti dall'azienda tu non devi vendere almeno non devi vendere dopo due giorni ok quindi non devi pensare che la tua fonte di guadagno diventa diventare lo spacciatore dei prodottini che ti arrivano dall'azienda ok all'inizio fai un po' di regali a parenti amici poi dopo un po' prendi una decisione ti dai un narco di tempo dopo il quale effettivamente li puoi smaltire perché dopo un po' va bene dopo un po' basta però sii sempre trasparente piuttosto veramente comunica anche alle aziende guarda è passato un anno io adesso questo prodotto sappi che lo vendo se vedi un annuncio su ebay sono io spero di non offendere però non posso riempirmi neanche la casa di cose chiaramente sempre se non serve ancora nel caso di chi tratta tecnologia per esempio è fondamentale conservare gli oggetti delle generazioni precedenti quindi quando tu devi recensire un nuovo processore una nuova scheda video un nuovo smartphone esce l'iphone 14 dovrai fare il confronto col 13 e col 12 o perlomeno col 13 quindi sarà importante che tu conservi le generazioni precedenti per dare un contenuto sempre di maggiore qualità al tuo pubblico dopo un po' facendo l'influencer che tratta di prodotti io ti assicuro finirei con la casa piena di pacchi oggetti e roba a spassare in giro ovunque trova una modalità onesta trasparente per farle sparire ma non pensare che siano degli assegni circolari mandati per essere incassati il giorno dopo io nel mio caso arrivo a vendere quando proprio sono disperato non ce la faccio più ma si tratta proprio di roba di due anni tre anni prima o li porto a un mercatino li porto anche dove magari persone possono avere un vantaggio preferisco non andare su ebay perché è un po' un po' squalificante andare su ebay cioè mettersi online con il proprio nome a vendere roba sinceramente potresti darle a un amico a un parente però guarda che tanto ti beccano perché se li metti online chi vuoi che abbia da vendere certe cose a meno che non siano prodotti proprio di uso comune potrebbero anche beccarti un giorno oppure certi prodotti potrebbero avere addirittura un identificativo che fa risalire a te io per esempio nel mercato della stampa del giornalismo dei videogiochi mi ricordo avevano beccato delle persone che vendevano le versioni promozionali dei videogiochi oppure dei kit stampa quindi delle speciali edizioni del gioco o di quello che era una specie di edizione della collezione del gioco solo per la stampa che magicamente finivano su ebay allora dici chissà chi è stato dopo un po' ci arrivavano quindi attenzione si fa brutte figure e si compromette la relazione con l'azienda che ti ha dato fiducia quindi mi raccomando quindi non hai più scuse qui ci sono i corsi da acquistare quindi se anche pensi che non fa per te che non è le qualifiche non è le caratteristiche non è abbastanza iscritto e follower guarda che in questi corsi che vendiamo il link qua sotto a partire da 47 euro e te li rimborso se pensi che non siano soddisfacenti ti spieghiamo come fare e tantissime persone hanno avuto successo con questo tipo di attività quindi mi raccomando non ci sono scuse se vuoi fare influencer professionista è il momento migliore di tutti non c'è un momento migliore in tutta la storia di internet non c'è stato un momento migliore di oggi per partire grazie grazie grazie